e a un certo punto dovrebbe venire uno stupendo countdown anzi no mi dice già direttamente che la riunione è in streaming dal vivo e quindi vuol dire che abbiamo iniziato un po a sorpresa senza la sigla senza niente ma no no era era per dire ovviamente la sigla non è pronta allora come al solito quando si iniziano queste splendide dirette facebook bisogna cazzeggiare un pochettino perché così cominciano ad arrivare notifiche le persone iniziano ad arrivare e facebook col suo meraviglioso algoritmo comincia a comunicarvi che ci siamo e quindi io mi prendo un minuto proprio per fare le presentazioni di rito e per dirvi prima di tutto che cosa stiamo facendo allora questo è uno degli incontri che abbiamo chiamato gli slow news days sono degli incontri che nell'era pre covid avevamo progettato dal vivo in presenza in maniera abbastanza strutturata con poche persone presenti per pochi intimi abbiamo fatto un bellissimo evento lo scorso anno nel nell'auditorium di radio popolare per esempio e poi ci siamo detti perché non approfittare del delle parti positive che di questa strana situazione quindi abbiamo deciso di rendere gli slow news days un appuntamento permanente ci piace in questo appuntamento incontrare persone di solito si tratta di persone con le quali condividiamo o percorsi oppure visioni del mondo non perché non ci piaccia aprirci anche ad altre idee ma perché ci troviamo meglio quando possiamo fare delle chiacchierate che non si trasformino per forza in dibattiti di quelli tremendi a cui siamo abituati o meglio a cui è abituato chi guarda ancora i famigerati talk show politici in tv e la persona che incontriamo questa sera è antonio pavolini analista dell'industria dei media analista ricercatore dell'industria dei media e questi appuntamenti li facciamo di solito in abbinamento in cooperazione con delle librerie indipendenti con un progetto che si chiama book dealer noi questa sera siamo in collaborazione con il covo della ladra e con la libreria del golem che sono una libreria di milano e una libreria di torino che però avevano anche altri live quindi adesso non ho capito bene se andiamo live andiamo indifferite faremo una finta live quindi nel caso saluto comunque spettatrici e spettatori clienti di queste due librerie e book dealer è una piattaforma che mette insieme librerie indipendenti per favorire delle consegne a domicilio diciamo per creare una rete digitale per questo bellissimo presidio sul territorio che sono le librerie italiane che abbiamo le librerie indipendenti a noi piace lavorare insieme a loro e fare questo tipo di partnership basta ho fatto anche troppo dal punto di vista dell'introduzione e ovviamente parliamo di librerie perché questa sera con antonio siamo qui a presentare il suo ultimo libro libro che si intitola e adesso dovreste vederlo anche in condivisione dello schermo unframing come difendersi da chi può stabilire cosa è rilevante per noi allora ciao antonio ciao alberto grazie per l'invito sono commosso grazie a te per la partecipazione io ti devo fare subito una prima domanda che sembrerà banale ma non lo è che cosa vuol dire unframing e perché il libro si intitola così ma diciamo che unframing prova a inserirsi in un dibattito accademico che parte da tanti anni che è quello sull'agenda setting che poi si è sviluppato nell'analisi di altri fenomeni che sono il framing e il priming non voglio entrare troppo in queste tecnicality forse giovanni bocciattieri che è un sociologo che ha scritto la prefazione lo spiega bene nella nella prefazione saprebbe dirlo con più compiutezza rispetto a me diciamo che il framing non è soltanto stabilire che cosa è rilevante per le persone ma anche dare il taglio l'angolazione che fa sì che alle persone interessi solo la parte che fa comodo a chi la racconta ok e nel libro ci sono vari esempi di framing l'unframing sarebbe il modo per liberarsi da questo condizionamento che è dovuto a tutta una serie di il condizionamento non è una scelta stilistica il condizionamento è una scelta economica di business perché l'industria nei media è una ovviamente un'industria legittimamente svolge una missione pubblica però il problema è che la parte della renditività che è sempre più in crisi spinge questa industria a portare i nostri occhi sempre più o meno in certi in certi luoghi che fanno comodo a loro fondamentalmente detta proprio in termini molto molto semplici e siccome quando uno apre il giornale invece spera di leggere cose che possono tornare utili a noi che siano veramente rilevanti per noi ecco si crea questo equivoco e quindi è necessario difendersi secondo me e il libro lo spiega bene perché difendersi da chi può da chi ha questo grande potere bisogna almeno avere questa consapevolezza per farlo la strada è quella della media literacy cioè proprio della dell'alfabetizzazione dei media che in italia è ancora lasciatemelo dire a caro amico allora il libro che come ti dicevo nella chiacchiera pre pre diretta ho finito di leggere poco prima delle dell'inizio di questa presentazione ahimè purtroppo di l'ultima parte in lettura veloce di quelle appunto pre presentazione ma quindi mi riservo di fare una seconda lettura si divide diciamo idealmente in due parti no c'è una parte in cui tu pialli la pars destruens ma poi evviva c'è anche una parte in cui offri delle vie percorribili e delle soluzioni ovviamente dobbiamo rispettare la struttura del libro e partiamo dalla pars destruens cosa dobbiamo dire la pars destruens io mi sono sentito obbligato a scriverla non solo perché è opportuno far capire alle persone in che drammatico contesto mediatico si trova soprattutto il nostro paese ma anche perché io ormai ho la fama del del distruttore perché anche il libro precedente che avevo scritto oltre il rumore circa cinque anni fa era stato giudicato estremamente duro ed è bellissimo perché a quella versione durissima di quel libro io arrivai dopo aver fatto grandi sforzi per per renderlo più morbido quindi questo mi fa capire che cosa poteva essere la bozza iniziale poi un po' l'intervento di mia moglie un po' l'editor e un po' poi varie letture per fortuna oltre il rumore non non è stato non è stato questo questo libro questa specie di rent che rischiava di essere è diventato anche un libro anche divertente cercato soprattutto di renderlo folcloristico divertente questo invece che scrivo cinque anni dopo è un libro che ha una part destruens che spiega qual è lo stato attuale dell'industria dei media nella transizione digitale e sicuramente il nei passi avanti rispetto a cinque anni fa sono stati compiuti l'industria ha capito qual è il proprio ruolo quantomeno in questa fase iniziale di questa lenta e lunga transizione faccio una parentesi non siamo non c'è stata nessuna rivoluzione compiuta siamo all'inizio di qualcosa di molto più lento e di in cui non si possono commentare gli esiti e mi dispiace dirlo perché sono usciti parecchi libri che dicono ok il nuovo mondo è questo dopo la rivoluzione digitale che è finita è tutto cambiato ora io vi spiego dove siamo no secondo me non si può solamente parlare dell'approdo i problemi in cui ci troviamo sono i problemi di questa tumultuosa navigazione in un vuoto dove tutti annaspano e surprise surprise non annaspano soltanto i vecchi annaspano anche i nuovi che si stanno rivelando molto molto meno innovativi di quello che che qualcuno sperava allora in questa lunga transizione l'industria dei media rispetto a cinque anni fa quando scrissi oltre il rumore sicuramente ha capito che può conservare un ruolo molto importante che è appunto quello di stabilire che cosa è rilevante per noi il ruolo dell'intermediazione io chiamo la chiamo intermediazione culturale che è qualcosa di più ampio rispetto al semplice ecosistema dell'informazione perché riguarda non solo la capacità di stabilire che cosa è una notizia cosa no ma anche di stabilire che programmi tu guardi in tv la sera che cosa no che musica ascolti su spotify che cosa no che programmi ci sono che opere d'arte ci sono nella programmazione di un museo oppure no fino ad arrivare ai pacchetti turistici cioè esiste questa grande fondamentale secondo me professione che è quella dell'intermediatore culturale che è andata in crisi con internet e come ha reagito ha reagito snaturando il suo mestiere tornando al giornalista non il giornalista non cerca più di capire che cosa veramente potrebbe cambiare le persone e quindi quale sarebbe davvero una notizia il valore di un giornale non è più montare per due mesi un'inchiesta come quella del watergate perché non reggerebbe quel tipo di copertura con i modelli economici che ci sono adesso se ci fossero stati all'inizio degli anni settanta i modelli economici e l'industria di media che ci sono ora dopo il primo articolo che dice sì forse c'è qualche problema nella campagna elettorale di nixon il giorno dopo ci sarebbe stata subito lo scandalo del quarterback dei redskins che si porta a letto la cheerleader il giorno dopo ci sarebbe stato una uno strano incontro a sorpresa tra i black panthers e reverendo jesse jackson cioè tutti i giorni avremmo avuto un new cycle che avrebbe coperto un lavoro che richiede mesi che è quello appunto di costruire rilevanza reale per la vita delle persone perché capite bene che per l'america dei primi anni settanta scoprire che la persona che vi sta tenendo in vietnam è uno che sta truccando il processo democratico è veramente il valore per cui ai tempi tu compravi il washington post ok tutto questo non oggi non può più funzionare con questo non voglio dire che non ci sono più state come dire grandi inchieste giornalistiche da allora ce ne sono state penso per questa volontà di ripetere continuamente cercando di sfuggire al teatrino quotidiano le cose veramente importanti per esempio repubblica l'ha fatta durante tutto il periodo del berlusconismo con le famose dieci domande no quindi non che venivano ripetute tutti i giorni le domande a berlusconi a cui lui non rispondeva mai quindi sotto sotto c'è sempre questa volontà il problema è che mentre l'industria va avanti cerca nuovi modi per remunerarsi per sopravvivere la parte economica distrugge la parte editoriale quindi quel lavoro fondamentale di cui avremmo tutti bisogno oggi il giornalista oppure più in grande l'intermediatore culturale è completamente snaturato e quindi queste persone che dentro dentro di sé ancora si sentono giornalisti curatori d'arte responsabili di palinsesto eccetera di fatto fanno sempre di più quello che chiede il modello economico cioè presidiare l'attenzione delle persone e questo si si fa con molta meno profondità no si fa alimentando il ciclo continuo delle notizie e però insomma tornando alla alla domanda che mi facevi la prima parte del libro racconta di un'industria dei media che ha capito che ha ancora largamente questa possibilità di stabilire cosa è rilevante e perché poi i social media hanno deciso di non occuparsi di questo perché perché le grandi piattaforme digitali che sembravano dover disintermediare tutto non hanno non si sono prese il posto della vecchia industria assolutamente no hanno alzato le braccia anche perché comporta grandi responsabilità quel lavoro non hanno nessun interesse a prendersi in carico questa parte è per loro soprattutto un problema ma soprattutto non c'è neanche un contesto economico che spinga le piattaforme digitale a dire vogliamo fare gli editori anche noi perché dovrebbero visto che continuano a macinare soldi semplicemente facendo la piattaforma abilitante tecnologica e ottimizzatrice di quello stesso ciclo però innestato innescato scusate da chi stabilisce i temi di cui tutte le persone parleranno no temi sempre più ovviamente polarizzati e in contrapposizione perché attraverso la polarizzazione che parte dai tour show e arriva chiaramente nei thread dei social media attraverso la polarizzazione si fanno i soldi perché sono quelle le discussioni dove noi liberiamo più dati e quindi paradossalmente l'interesse una volta ripartiti i ruoli fondamentalmente c'è un interesse convergente tra la vecchia industria e la nuova industria in un ciclo che io nella prima parte del libro cerco di spiegare un corto circuito per usare il titolo di un altro libro uscito per la mia stessa collana il quant di le edizioni no il libro di gabriele ferraresi parla anche di questo di questo di questo terribile fenomeno lui ne parla più in termini di problemi di conseguenze per la società democratica io ne parlo più in termini di alimentazione del modello economico però è importante avere sempre presente nell'analisi del problema tutte le sfaccettature non è solo un discorso di vero falso di fake news eccetera ha molto più a che vedere con in che modo si fanno i soldi ok oppure in che modo reagiscono le persone se tu hai un po tutte le sfaccettature del problema arrivi a capire lo stato degradato in cui si trova l'ecosistema dei media in questo momento e tu fai un sacco di esempi anche parlando di cose molto attuali che abbiamo visto in questi giorni in questi mesi diciamo così di emergenza no dove dopo in qualche modo dopo la sbornia iniziale perché sembrava che il ruolo non soltanto di intermediazione culturale ma anche di darci del contenuto come quello che hai citato l'inchiesta di cui poi parliamo sempre nei vari casi di studio no l'inchiesta su nixon sembrava che si fossero ritornati lì e poi invece abbiamo scoperto che lo scupperano le bozze del dpcm e da lì e da lì prime pagine che tra l'altro di cui tu all'altro hai fatto mettere anche alcune foto no prime pagine è il panico pagine che ti spaventano eccetera eccetera come se in qualche modo i media pensassero beh la cosa più rilevante che possiamo fare è emozionarti tantissimo e farti paura in qualche modo oppure minimizzare quando occorre no che è un po la polarizzazione di cui di cui stavi parlando sì diciamo che su tutte le questioni cioè una volta che tu hai allestito il palco e hai stabilito che tutti parleranno di questo poi come dire rappresentare versioni anche contrastanti della stessa storia fino a coprire l'intero arco no tra il vero e il falso tra chi dice che che la terra è piatta e chi credo giustamente sostiene che la terra sia rotonda e il problema che tu stai dando la stessa rilevanza anche a chi sostiene che la terra è rotonda lo fai perché perché però anche come dire l'indignazione per l'ignoranza di chi pensa che la terra sia piatta anche quella vende vende straordinariamente quindi coprire tutto lo spettro io ricordo per esempio sempre nel libro a un certo punto c'è una schermata di una ricerca google fatta in un certo giorno in cui la stessa notizia d'agenzia era stata ripresa dai vari portali nei primi dieci minuti perché poi è una corsa ad arrivare per primi coprendo tutte le possibili chiavi di lettura per esempio il vaccino è più con da il vaccino sta diventando più contagioso scusa il virus sta diventando più contagioso a il virus sta diventando meno contagioso l'origine notizia era la stessa ma dato che tu quando la pubblichi fondamentalmente vuoi ottenere click ti devi posizionare cioè siamo passati da quella che io chiamavo la coda lunga delle opinioni in cui ogni opinione aveva un mercato adesso anche esiste la coda lunga dei fatti non non importa dire come dire documentare argomentare spiegare un fatto no con dei dati no conta riportare la notizia con l'angolazione che in quel momento ti permette di ottenere più più click è il famoso framing e a seconda poi del titolo che ci piomba davanti nella nella pagina di ricerca o nella raccomandazione dei vari motori di raccomandazione noi semplicemente decidiamo in quale mondo siamo stati proiettati ma lo facciamo in automatico genera una bella confusione in lettrice lettori sì ma soprattutto in una fase in cui sono mesi e mesi che la polemica sulla sulle fake news parte da chi giustamente dice la risposta della scienza è una sola beh non appena la scienza è stata chiamata a portare le sue risposte in una crisi gravissima per tutti come quella del covid la scienza ha cominciato a litigare eh nei tour show quindi noi abbiamo avuto 300 diverse posizioni della scienza e questo ha fatto ha fatto letteralmente impazzire la maionese il dibattito cioè praticamente è stato come dire ragazzi voi ignorati ignoranti che dicevate che non siamo mai andati sulla luna tutto sommato avete per noi media la stessa autorità di chi di giorno in giorno ci dice la clorochina fa male il vaccino è meno contagioso eccetera senza nessuna leva che faccia funzionare il dibattito leva scientifica per esempio diversa dalla necessità di tenere in vita il ciclo delle notizie secondo te c'è un modo per per i media per abitare questa complessità e in qualche modo rassegnarsi alla polarizzazione perché viviamo in un ecosistema che si polarizza in anche anche probabilmente si polarizzerebbe anche senza quella schermata bellissima in cui fai vedere appunto come dicevi tutto lo tutto lo spettro possibile di tutte le opinioni di sul medesimo fatto quindi penso che probabilmente si polarizzerebbe lo stesso come si fa ad abitare questa complessità da parte di chi produce informazione cercando di non polarizzare troppo e di trovare un po' una bussola un nord da seguire ma allora io non vorrei sembrare eh troppo tradizionalista ma credo che la cosa che manca ormai non è eh una particolare tecnicality manca proprio il giornalismo dove io definisco per giornalismo la capacità di qualcuno di dare alle persone gli strumenti per farsi una propria idea su quello che succede ok quindi questo è il primo passo se tu invece chiami giornalismo un'idea che spiattelli lì perché ti fa vendere click o ti fa vendere riso senza lattosio ok se tu fai questo come riflesso automatico e ti chiami giornalista e poi magari vai al festival di perugia e dici siamo noi che salveremo il mondo dalle fake news perché noi siamo il vero giornalismo ecco se fai questo se continui a fare questo non potrai mai eh compiere questo primo passo cioè guardarti dentro e dire ma io sto dando degli strumenti alle persone per farsi una una propria idea su come vanno le cose poi naturalmente c'è un'altra domanda se io cominciassi a dare strumenti alle persone per capire come stanno le cose aiuterei economicamente la mia azienda la mia azienda editoriale ok allora il problema è numero uno cioè il modello economico se il modello continua a funzionare dietro al presidio dell'attenzione non c'è la buona volontà del giornalista che può cambiare da solo le cose infatti conosco molti giornalisti che si lamentano della situazione in cui si ritrovano a lavorare perché loro vorrebbero fare questo ma semplicemente il loro stipendio non è pagato da questo punto primo poi punto secondo la vera part construence no quali sono gli altri modelli quindi che potrebbero farci tornare non dico a bob woodward e a berstein car berstein per a livello watergate mi sembra un po' difficile adesso ma quantomeno far sì che le persone anche diversificando la propria dieta mediatica no arrivino ad avere degli strumenti per interpretare la realtà il primo passaggio fondamentale è non pretendere più di saturare completamente la necessità il desiderio di essere informati una persona attraverso un singolo prodotto che può essere un quotidiano di 32 pagine o un telegiornale no le persone ormai come dice bene giovanni bocciartiene nella prefazione sono eh prendono informazione da una incredibile molteplicità no di di luoghi e di spunti ecco definire eh valore nuovo valore economico nella molteplicità e non più nella saturazione all'interno di un recinto questo è un primo passaggio fondamentale concettuale con questo io non sto dicendo ok adesso c'è un nuovo modello no perché per esempio flip board non è che pur essendo un aggregatore di notizie gratuite non è un modello dell'informazione no flip board è semplicemente come dire raccatta una esigenza di un certo tipo di consumatore evoluto di notizie però da solo non risolve assolutamente il problema al massimo con flip board tu puoi avere i diversi frame di varie notizie gratuite però vedete il problema che mi sta più a cuore più che capisco la sostenibilità della dell'industria però se in questo momento il discorso pubblico è alimentato da notizie gratuite e le notizie gratuite sono eh infotainment se non informazione spazzatura noi abbiamo un discorso pubblico spazzatura quindi abbiamo una ehm come dire un universo di riferimento per capire come funziona il paese l'Europa il mondo eh che eh non solo non ci aiuta ma ci allontana anche nella formazione del consenso e quindi proprio nella base nel nel nucleo del del processo democratico eh l'attuale sistema è drogato proprio alla base quindi facciamo un passo per volta non pretendiamo più primo passo di saturare completamente la necessità di essere informati attraverso un oggetto che è quello che vendi e quindi non pensare di chiudere tutto di dare tutte le risposte in un solo oggetto sapere che le persone si muovono in un universo variegato e forse anche smettere di cercare la via d'uscita nella narrazione riprendere il ruolo dell'informazione perché io vedo un sacco di grandi direttori di giornali per esempio Molinari l'ho sentito all'auditorium di Roma qualche tempo fa eh sapete che Molinari adesso ha preso in mano Repubblica e si muove dentro questo universo molto mutevole che è il gruppo Jedi e Molinari dice che ormai il suo giornale deve comportarsi come se fosse una casa di produzione cinematografica cioè deve costruire grandi narrazioni capisco che questo manda un segnale di cambiamento che magari dentro può sembrare un ancora di salvezza no dentro quella situazione industriale però a me fa un po' accapponare la pelle cioè l'idea proprio di rinunciare a informare cioè rinunciare a dare delle persone strumenti per farsi una propria tipa no invece imporre una narrazione hollywoodiana questo io lo trovo abbastanza agghiacciante intanto ti do un'informazione di servizi deve esserci qualcosa che sbatte contro il microfono che adesso ho fatto proprio un rumore no sono io ok te l'ho detto così almeno eh lo sai e mh senti eh sì sono vabbè quando quando ho iniziato a parlare con Antonio di questa presentazione gli ho detto che avevamo un problema perché ero d'accordo praticamente su tutto quindi anzi se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare delle domande magari ehm anche in disaccordo rispetto alle cose che che vengono dette ovviamente sono buona ben accette e mh allora abbiamo parlato tanto di ehm del punto di vista di chi produce no? Più o meno hai dato un paio di 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 dritte su quello che si potrebbe fare per provare a uscire dal da questa spirale di crisi e di 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 molteplici crisi no? Perché c'è una crisi economica c'è una crisi professionale c'è una crisi di identità del giornalismo c'è una crisi di fiducia da parte delle persone del giornalismo insomma un gran casino ehm però poi tu ad un certo punto nel libro eh senza fare troppi spoiler dai qualche suggerimento anche a passatemi il termine ai consumatori e alle consumatrici di notizie no? Ehm ne vuoi anticipare qualcuno? È un tentativo disperato di vendere il libro perché se il libro eh chiaramente prova essere il saggio accademico sull'industria dei media io penso che giustamente le persone se hanno una gamba del tavolino corta possono utilizzarlo ma diversamente diventa un po' pesante no? Invece allora cerco di rivenderlo come un anche un manualetto per sopravvivere fino a quando l'industria non trova le proprie grandi soluzioni macroeconomiche nel frattempo nel nostro piccolo qualche accorgimento lo possiamo prendere e il primo di questi accorgimenti è ridefinire la propria dieta mediatica ma questa chiaramente non è una soluzione valida per tutti io do dei suggerimenti eh che soprattutto vanno nella direzione diciamo così di esplorare anche quei soggetti editoriali che non fanno infotainment cioè intanto soprattutto tutte le volte che tu durante la tua giornata ti rendi conto che non ti stai informando ti stanno vendendo un prodotto che sembra informazione e prende anche contributi pubblici come informazione ma in realtà è intrattenimento ecco quando tu hai la sensazione di essere più intrattenuto che informato comincia a metterci un po' una pietra sopra perché un tour show di quattro ore di persone che litigano su questioni che se ci pensi un attimo non sono più così rilevanti per te forse è la prima occupazione diciamo forzata del tuo tempo che potresti sostituire con qualcosa di più utile che cosa può essere questo più utile intanto leggere eh da fonti molto varie e nel libro ci sono un po' di indicazioni anche nel mondo gratuito che che non è così disperzabile sempre come uno può pensare perché ci sono magari dietro modelli più intelligenti che non siano solo che so lo spot pubblicitario poi naturalmente sì secondo me vale la pena anche di pagare qualcosa no e vabbè il signore che sta nella finestrella qua sopra per esempio fa delle cose che secondo me vale la pena pagare però per non fare lo spottone io dico anche che per chi capisce l'inglese per esempio il new york times in questo momento per noi europei costa in digitale costa due euro al mese due euro al mese secondo me anche solo per vedere che cosa si potrebbe fare con il digitale che in italia non viene fatto è la prima cioè ti apre veramente un mondo e lo dico a male in cuore perché new york times un po sta anche cannibalizzando tutta l'informazione mondiale essendo così straordinariamente migliore di tante altre cose oppure ci sono modelli invece completamente gratuiti come quello del guardian che vanno comunque esplorati semplicemente per per rendersi conto che si può fare una informazione di altissimo livello anche semplicemente puntando sul mecenatismo a vari livelli dai contributi piccoli dei lettori fino a quelli dei grandi brand o delle grandi diciamo associazioni non c'è una risposta una dieta mediatica ideale per tutti però almeno sfuggire diciamo così a questa pigrizia che ci fa sentire in un flusso che ci imprigiona in questa ruota del criceto è il primo passaggio fondamentale poi sì nell'ultimo capitolo del libro ci sono parecchi altri suggerimenti che esulano anche dalla questione dell'informazione ne dico soltanto uno che è quello di provare a invertire il flusso e cioè molto spesso durante la giornata ci ritroviamo a fare delle cose che ci vengono suggerite da questo schermo o da uno schermo appena più grande il tablet oppure da quello del computer sono macchine che tutto il tempo giustificano la loro esistenza nella capacità di determinare poi i nostri comportamenti quindi lo spunto ci arriva dallo schermo poi noi facciamo delle cose nella vita reale ebbene la tecnologia già ci permette oggi di invertire completamente questo rapporto cioè di prendere spunto dalla nostra esplorazione dello spazio fisico per poi approfondire in rete e ci sono delle delle applicazioni che io chiamo applicazioni inverti flusso che già in piccolo ti fanno vedere che cosa è possibile fare penso a google lens dove tu fai una foto a una begonia in giardino e poi dopo puoi approfondire perché ti dà tutta la la dimensione documentata della della begonia quindi oppure vedi un film si ha suonato il campanello alberto tu però è il microfono al microfono spento e quindi diceva il campanello mi dice che è successo quello che doveva succedere che poteva succedere quindi no è arrivata mia figlia non aveva le chiavi è andata mia moglie ad aprire ma non c'è nessun problema questo per dire che anche avere internet ci permette per esempio attraverso le mappe collaborative di esplorare lo spazio fisico in modo integralmente nuovo però l'esperienza parte ancora dal mondo degli atomi ok e poi dopo tu vai ad alimentare a cambiare la rappresentazione del mondo nel digitale questo secondo me questi sono due esempi delle potenzialità che stiamo completamente ignorando nella rete perché perché siamo ancora lì a correre come dei crescetti al ritmo e sui temi decisi da qualcun altro io di domande ne ho ancora tonnellate te ne faccio poche prometto però ci sono anche delle cose che ti devo chiedere che mi vengono in mente rispetto a cose che hai citato per esempio tu prima hai parlato delle famose dieci domande di repubblica e io di riflesso ho pensato alle famose domande che fece la padania a Berlusconi e ho pensato all'enorme differenza perché già in quelle dieci domande di repubblica lì che comunque erano tutte centrate no sulla stato stato di salute e abitudini sessuali di Berlusconi cominciava ad intravedersi quello che tu hai raccontato cioè della narrazione no mentre quelle domande che fece la padania si trovano ancora su google andando a cercarle no domande iper strutturate che entravano nel merito per esempio di da dove sono venuti i fondi per costruire Milano 2 per dire no invece quelle domande lì le famose domande di avanzo erano tutte centrate su una cosa che è già molto più vicina alla narrazione che non all'informazione come l'hai definita questa era una considerazione mi era venuta in mente me l'ero appuntata e dovevo dirla assolutamente poi hai citato i fondi pubblici e allora mi chiedo e ti chiedo ci sono per esempio degli esempi straordinari no vabbè ne penso penso almeno a un esempio straordinario di servizio pubblico che è la bbc tu credi che una riforma profonda del modo in cui per esempio in italia vengono erogati finanziamenti pubblici potrebbe favorire una una rinascita in qualche modo di quell'informazione che auspichi allora posso dire che è un'informazione molto migliore di quella che fa adesso il servizio pubblico il servizio pubblico già la faceva fino agli anni 70 senza che cambiasse minimamente la normativa e neanche la struttura del contratto di servizio ovvero il contratto di servizio viene sempre aggiornato come giusto che sia con l'evoluzione tecnologica però le basi del contratto di servizio se ne andiamo a leggere erano erano quelle anche della della rai bernabeiana quindi il vero tsunami che ha colpito il servizio pubblico è stata la concorrenza di una tv commerciale che ha stabilito poi le regole della competizione anche per lei cioè quando il servizio pubblico ha smesso di dire noi esistiamo perché dobbiamo ripagare il canone e ha cominciato a dire noi dobbiamo esistere per competere in un mercato di raccolta pubblicitaria a patto di rimanere di arrivare sempre secondi in questa corsa quando è successo questo la rai non è più stata la bbc e quindi quello che la prima risposta alla tua domanda è forse più che andare a colpire l'impianto normativo che non è molto diverso di quello di oxfam nel regno unito per esempio io andrei molto più a fondo sul tema proprio del perché cioè dei rapporti di potere di questo monopolio della raccolta pubblicitaria perché sembrano per esempio che sipra manzoni pubitalia siano in competizione tra loro ma la verità è che hanno già ampiamente ripartito gli ambiti di intervento perché solo all'assenza di una reale competizione anche in quel terreno garantisce la sopravvivenza di questi di questi soggetti e quindi in questo momento la rai si ritrova ad avere come fonte di ricavi molto importante la pubblicità qualcosa che non ha nessuna intenzione di cambiare quindi se non cambia perdonatemi se la guardo sempre partendo dei fogli excel e le caselline di costi ricavi delle varie delle varie aziende no la rai è un'azienda pubblica ma è un'azienda tutti gli anni l'operato del direttore della rai è capire se è riuscito a far quadrare i conti perché altrimenti si sperperano i soldi dei cittadini no c'è sempre questa questo racconto se tutto rimane rinchiuso in questo è chiaro che la rai vorrà sempre tagliare 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 la qualità e continuare a incamerare quella parte di raccolta pubblicitaria importante no oppure magari far pagare il canone con la bolletta elettrica per avere la certezza che tutti paghino l'abbonamento per se tutto rientra in questo l'impianto ormai fisso della ricerca comunque dell'audience da parte della rai come se fosse canale 5 e non quindi come la bbc non potrà mai essere scardinato non può essere scardinato perché è completamente bloccato il sistema economico che fa funzionare la rai quindi non è un tema normativo ok non è arrivando con delle delle tavole con delle nuove regole che tu puoi trasformare la rai in quello che vorresti che diventasse però vorrei anche aggiungere che la rai continua a salvarsi in tanti modi facendo un sacco di belle cose che però sono tenute ai margini in questo momento forse perché non contribuiscono più di tanto alla raccolta pubblicitaria e se fosse arrivato il momento di separare nettamente giornalismo e pubblicità questo è quello che sostiene non un scalzacani come antonio pavolini ma emily bell che dirige il tau center per giornalismo alla colombia university da da molti anni ed è un po il mio faro su questo tema e dice che non potremo mai avere libero veramente libero giornalismo finché finanziato in larga misura dalla pubblicità ma questo perché negli stati uniti è stato chiaro già dagli anni 70 cioè praticamente subito dopo il watergate perché ci sono state delle come dire dei conglomerati sempre più grandi cioè prima avevamo tante imprese editoriali poi pian piano siamo rimasti con due tre grandi soggetti editoriali dove però la cultura dominante era quella sempre della tv commerciale allora con questa cultura anche se i giornali avevano la casella dei ricavi alimentata più dalle vendite che dal contenuto che dalla pubblicità però se la cultura del venditore pubblicitario invade tutti gli altri pezzi del giornalismo che sta dentro un conglomerato allora poi come dire non c'è più neanche quel pezzo di giornalismo libero che invece prima culturalmente per esempio la tv commerciale americana riusciva a fare no nei primi anni diciamo per tutti gli anni 70 e anche nei primi anni 80 60 minutes per esempio era un programma straordinario no che faceva grandi inchieste ed era alimentato con la pubblicità no vi ricordate dan rada ma anche peter jennings sull'abc aveva degli spazi straordinari di cioè quando c'era da essere il watchdog della democrazia lo facevano perché ancora si pensava che le persone guardassero quel canale perché faceva quel mestiere poi pian piano però la cultura del è un momento tu devi vendere where's the beef devi vendere la pubblicità non devi non devi vendere il prodotto questa cultura pian piano con i vari conglomerati ha distrutto il quel tipo di informazione eh anglosassone che ancora i decani del nostro giornalismo indicano come un riferimento no come se se ancora facessero parte di quella cultura ma ma non è più così da da decenni da noi ci siamo arrivati con le vicende locambolesche berlusconiane che sappiamo eh e oggi c'è c'è diciamo eh come dire la resa dei conti no quando arriva una macchina che ottimizza tutto questo alla perfezione come è l'algoritmo l'algoritmo di di una piattaforma digitale il giornalismo dice ah vedi questo è il nuovo questo è il mio nuovo mondo di riferimento io sarò sempre una chiappa click sarò sempre un un presidiatore di attenzione perché eh perché siamo finiti qui eh sì come se ci dicessero continuamente non c'è alternativa no è come se è come se Margaret Thatcher fosse nella testa di tutti noi a dirci continuamente there's no alternative e ehm io amo dire sempre che l'unica risposta che il giornalismo ha saputo dare al digitale è stata cercare di riempire degli spazi e siccome prima quegli spazi erano su carta stampata quindi se non altro avevi il limite fisico però poi sul digitale ti sembra che siano sostanzialmente illimitati allora costruisci recenti esatto esatto e abbiamo una domanda da da Giovanna ehm per tutti e due ma io in realtà voglio lasciare rispondere te perché al limite poi a Giovanna io rispondo scrivendo nei commenti che dice se si può dire qualcosa su quella tipologia particolare di intermediari che sono i social penso ovviamente continua Giovanna all'annuncio recente di Facebook sulla sua intenzione di oscurare false notizie riguardanti il covid allora quando Facebook fa questi annunci li fa a valle di una decisione strategica già presa una volta per tutte che è quella di non fare giornalismo di non fare l'editore ovviamente essendo l'unico terreno di possibile eh danno al business di Facebook quello della reputazione quando ci sono queste grandi crisi eh loro come foglia di fico dicono ok oscuriamo questo mettiamo una pezza su quest'altro così dicono noi l'abbiamo fatto questo serve a loro quando poi vengono chiamati eh a deporre magari davanti a qualche commissione del congresso qualche commissione qualche organizzazione internazionale eh a raccontare a parlare di cose su temi che veramente stanno a cuore no di a Facebook non gliene frega nulla se circolano notizie false sulla propria piattaforma gliene frega molto se qualcuno gli dice guarda dovresti pagare le tasse da noi e non a Gainstri no cioè allora eh siccome l'unico vero danno che può accadere al loro business in una condizione di assoluto monopolio naturale in cui si trovano quindi non non temono nessuna concorrenza è quando hanno di fronte il soggetto pubblico che gli dice attenzione stai diventando una minaccia loro loro vanno lì con faccia contrita l'unico momento in cui se smettono i vari picciai Zuckerberg eh Bezos eccetera vanno lì li vedi in queste situazioni abbastanza penose eh con l'area dire sì scusate sappiamo che è colpa nostra siamo consapevoli della della gravità del rischio così sopravvivono da questo unico momento in cui sono messi un po' alla berlina e poi naturalmente dopo nelle segrete stanze si mettono l'accordo per confezionare la manovrina economica che salva il governo di turno attraverso un certo tipo di gettito fiscale no? Famosi accordi fiscali un'altra cosa fantastica cioè come se qualcuno avesse detto di volta in volta ai nostri governanti su che basi trattare eh trattare la fiscalità con questi soggetti io lo trovo veramente un calare le bracche soprattutto della politica nei confronti di questi signori assolutamente come dire rivoltante eh no questo per rispondere alla domanda di Giovanna quindi non c'è nessuna reale volontà né di fare l'editore né di realmente preoccuparsi dei contenuti falsi sono delle pecette come diciamo che a Roma sono sono delle pezze che mettono sull'unico vero indicatore eh di successo di fallimento in questo momento per il loro business che è la reputazione cioè continuare noi a pensare che tutto sommato Facebook eh è una cosa buona per il mondo oppure oppure no. Mi permette di aggiungere perché come come al solito mi dai mi dai spunti ehm faccio un piccolo spoiler in un nel documentario che ho girato su questi temi solo news si chiama come la testata che ci ospita questa sera ad un certo punto abbiamo intervistato Julia Caget economista francese che si è occupata tra le altre cose ehm dei media ma anche del di quello che lei chiama il prezzo della democrazia no? Ehm e lei a un certo punto a un certo punto le abbiamo chiesto scusa ma ehm qual è qual è la soluzione che proponi per entità come Facebook Google e lei risponde in questo francese meraviglioso e eh anche che sembra anche parecchio aggressivo ma io so che lei lo pensa veramente taxe fortement dice questo capito cioè si devono fare tassare fortemente e io lo dico anche moderato come capito nel senso che negli Stati Uniti già si parla invece di un frazionamento assolutamente di baby bell no? Cioè così come è stato frazionato il mondo delle telecomunicazioni a suo tempo che che era un monopolio naturale la stessa cosa si può fare con gli over the top oltre a tassarli anche renderli più giustamente piccoli e competitivi. Over the top che non ci dimentichiamo tra le altre cose eh per chiudere Giovanna perché è importante dirlo fanno anche ehm filantropia nei confronti dei giornali e io lo dico in maniera estremamente libera. La parola la parola filantropia che è usato è uno dei più belli eufemismi che ti ho mai sentito utilizzare in questi casi. No no ma lo dico arrivandoci nel senso che poi se volete vi dico anche che cosa penso io della filantropia ehm e lo dico con estrema libertà perché uno dei bandi che abbiamo vinto quest'anno con News è stato finanziato da Facebook che ha dato dei soldi all'European Journal Center che poi ha messo in piedi questo European Covid-19 Support Fund che ne abbiamo vinto no? E vi stanno dicendo fate voi gli editori perché per noi sono solo problemi. Sì la cosa la cosa se volete divertente che poi dice anche Cagé nel suo libro è che questa filantropia è proprio il sovrano il re sole che arriva e ti dice to tieni ti do la mancetta oppure ti do la mancetta non solo ovviamente la deduco fiscalmente perché ne devo avere anche un beneficio che mica mica siamo matti e in più ti può venire anche il dubbio che tutto sommato se io ti faccio un bel bando e ti do un sacco di soldi tu poi parlerai non troppo male di me no? Cioè in quanto a PR questi signori ne sanno tante. Ehm dice Maximiliano Bianchi che saluto ho visto che nel sommario del libro c'è un capitolo dedicato ai podcast che non sono in crisi anzi. Ehm il formato è la dieta podcast può rientrare in quel tentativo di inversione del flusso di cui parlavi Antonio? Diciamo che il podcasting è rimasta un'arena miracolosamente libera dove le persone davvero inseguono i loro interessi anche perché hanno quel breve momento in cui attivano due neuroni e dicono ma su che cosa io vorrei ascoltare un podcast? Cioè per un attimo sono fuori dal flusso e questo li salva anche se sappiamo che il consumo del podcast parte comunque da un livello di alfabetizzazione informatica piuttosto elevato. Però in quel capitolo di cui tu hai letto soltanto l'indice eh c'è anche tutta una parte su che cosa purtroppo è anche diventato il podcasting rispetto ai tempi adesso divento sai il classico trombone che parla dei tempi andati. Il primo album era meglio giusto? Sì esatto il primo album è i tempi in cui eh c'era dietro anche davvero un movimento di liberazione dei contenuti no? C'erano i feed RSS che oggi praticamente non esistono più cioè ormai per podcast si intende qualsiasi file audio che ti può arrivare anche da Google Home e indico la cucina perché li ascolto lì in cucina e io per primo che potrei sembrare il talebano della situazione mi sono abbastanza reso all'idea di considerare il podcasting semplicemente un ambiente un pochino più respirabile di contenuti più legati alle nostre scelte molto interessante Antonio io sono entusiasta e arriviamo verso quella zona delle live che noi abbiamo identificato come più o meno la fine del primo tempo di una partita di calcio ma ci abbiamo visto che intorno ai 45 minuti eh nel frattempo posso dire una cosa che che sembra assolutamente controintuitiva rispetto alla volontà di lanciare il mio libro certo due minuti fa è partita la diretta di Muffet e Buggis che lancia su Carosello is back il suo libro che esce oggi che è Libere il futuro quindi chi vuole cambiare canale vada di là è un po' come i canali di sky poi puoi scegliere adesso hai fatto Adriano Celentano non so se vi ricordate quello quel momento incredibile in cui disse dai cambiate tutti canale spegnete tutti andate tutti su Rai 2 non mi ricordo esattamente sì 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 no l'avrei detto perché tra l'altro Giovanna era una di quelli che ci diceva su Twitter che siamo stati cattivi a fare le presentazioni lo stesso giorno quindi sì se volete cambiare canale tanto poi questa rimane ovviamente esatto perché poi per farvi sentire in colpa se non avete visto l'on demand dell'ultimo quarto d'ora in cui racconteremo i nostri segreti esattamente senti eh ti faccio la domanda da cento milioni di dollari ma se tu fossi nella posizione non dell'analista né del giornalista ma dell'editore perché poi alla fine tu hai detto una cosa molto importante che ci sono dei colleghi che poi si vanno al festival di Perugia e ti dicono eh sì noi siamo qui a salvare il mondo e spesso non riescono ad ammettere che ahimè fanno anche un sacco di cose sbagliate purtroppo eh dal punto di vista del clickbaiting dal punto di vista del di tutto lo scenario che hai raccontato no e che purtroppo altre altrettanto purtroppo le belle cose che fanno spesso si diluiscono in questa sovrapproduzione cioè tu hai quattro cinquecento articoli giorno che vengono buttati lì sul digitale e poi dice però un'inchiesta bella oggi l'avevamo fatta quindi diciamo che abbiamo abbiamo guardato dal punto di vista dei giornalisti abbiamo capito che a meno che non si mettano in proprio possono giusto fare un il meglio che possono dentro dentro i binari che gli vengono tracciati hai detto hai dato qualche dritta ehm dal punto di vista di lettrici e lettori se tu fossi un editore oggi che cosa faresti per per cambiare la rotta da dove partiresti venderei per cominciare il valore del contenuto eh diciamo proteggerei in una specie di di teca eh inossidabile l'idea che anche nel promuovere il prodotto l'idea che tu stai comprando il valore del prodotto eh e naturalmente questo valore deve essere percepito ovunque non come adesso dove ci sono per esempio in italia paywall no ci sono questi giornali tipo repubblica o la stampa o quella sera dove tu eh hai alcuni articoli che sono gratis ed è tutta la parte abbastanza impresentabile di questi quotidiani una sorta di bad company che dovrebbe invogliarti a eh pagare la parte la parte di di migliore qualità no eh quindi uno vede la rumenta praticamente nella home page e poi va giù e trova cose che somigliano sempre di più a tabula outbrain no lo scrolling infinito eh il famoso colonnino destro morboso cioè tutte queste cose devastanti clicca clicca qui per saperne di più e questa questa vetrina dovrebbe invogliarti a scoprire la meravigliosa grande inchiesta di perché poi effettivamente se tu paghi ti abboni là ci sono veramente delle belle inchieste io mi immagino una mortificazione di questi signori che dicono ma perché abbiamo avuto 12 abbonamenti eh perché c'è il problemino che hai eh che hai lo strip di eh eh della velina o o la litigata dal calciatore fuori dal bar eccetera quindi allora la prima cosa è fai percepire il valore di quello che tu fai ovunque ovunque che è quello che fa il New York Times ti fa vedere i primi eh no dieci articoli dice guarda tutto sommato se ti abboni è questa la qualità no è questo è quello che ti spiega il primo passaggio da come editore io vendo la qualità del contenuto una volta che hai fatto questo passaggio abituato ovviamente ci vuole anche un ammortamento di costi per fare questo eh cioè ci vogliono le spalle larghe industrialmente adesso però una volta che tu hai fatto questo poi dopo abitui le persone a dire qui dentro ciò che è il mio brand non scenderà mai al di sotto di questa linea mai ok io quindi se dovessi giocarmi un chip lo giocherei su questo poi dopo a valle posso anche decidere come ripartire i miei ricavi in tutta una serie di iniziative diversificate per fortuna la rete sta andando in una direzione per cui appunto per esempio il gruppo Jedi può anche organizzare festival può anche organizzare eh eh dei momenti eh che hanno un valore editoriale ma che non sono prettamente giornalismo ma io non mi vergognerei di questo perché i giornali come dice eh Tedeschini Lalli che saluto eh si stanno rendendo conto adesso che ci sono delle cose che loro hanno fatto e che erano insostituibili che non sono mai state giornalismo erano un servizio ok le persone pagavano per questo pagavano persino per vedere cosa c'è al cinema oggi e quindi una volta compiuto questo passaggio culturale di dire all'interno se proprio c'è da recintare qualcosa recintiamo i brand della qualità facciamo questa cosa occhio che ti è caduto il microfono ci sono per combattere tutto ciò che è gratis tutto quello schifo che c'è in giro che presidia l'attenzione ma dichiararsi sconfitto in partenza è abbastanza criminale in questo mondo è un tra l'altro Mario Tedeschini Lalli eh che io ritengo uno dei miei mentori anche se non ho mai avuto il piacere di essere davvero un suo un suo studente dice una un'altra cosa molto importante dice abbiamo sempre venduto relazioni mentre pensavamo di vendere contenuto sì sì tante cose le stiamo scoprendo adesso di quello che vendevamo prima no come relazioni il famoso valore relazionale del contenuto eh adesso che cos'è è a visto che le persone litigano volentieri tra Salvini e Rachete io gli butto in pasta no eh Salvini contro Rachete il duello dell'anno ma il valore è relazionare di un contenuto significa anche la capacità di capire che una persona trova una notizia e questa persona sa qual è il senso individuale di quella notizia per qualcuno che gli è molto legato perché è molto vicino no passare dal significato universale al senso individuale questo è fondamentale e i giornali l'hanno sempre fatto e stanno dimenticando di farlo adesso che la tecnologia permetterebbe di ottimizzare proprio questo cioè ragionano ancora come broadcast quindi ti investono di significati universali quando invece potrebbero andare uno ad uno da tutte le persone a dire ma a te caro la Rachete che cosa dice che non che non è necessariamente la radical chic benestante eh tedesca che si diverte con i migranti a fare l'eroina ed è pure una donna e quindi la puoi anche insultare perché così tiri fuori il peggio di te no proviamo proviamo uscire un attimo da questo che è una cosa che vende riso senza lattosio e magari dire ma a te a te Alberto Pugliafito che cosa dice caro la Rachete cioè che che storia racconta a te ecco e su questo nessuno monetizza niente perché se tu provi a dire questo dici ah sì vabbè ma bisognerebbe rivoluzionare tutto qualcuno deve per cominciare e quindi fatelo pensi so che so che è la classica domanda di quelle che poi vent'anni dopo una riva dice ah però quella volta Pavolini aveva detto la previsione e ha sbagliato però non funziona perché io questa cosa qua l'ho già detta dieci anni fa e continua a sbagliare nel senso che continua a non farlo nessuno però la domanda che mi faccio io e che ti faccio è secondo te è più probabile che questo cambiamento arrivi dal mainstream o arrivi dagli underdog e seconda domanda per vederlo questo cambiamento dobbiamo prima aspettare che lo tsunami spazi via tutto oppure da qualche parte perché tu hai detto da quando è scritto altre il rumore almeno qualcosa è cambiato hanno capito quindi prima domanda mainstream o underdog seconda domanda quando iniziano? Allora gli underdog già sono dentro i mainstream e sono le giovani generazioni di giornalisti che sanno usare internet e che crescono e che diventano vice capo redattore capo redattore conduttore di una fascia di mezz'ora su sky tg 24 su rai news e vedi questi ragazzi queste ragazze giovani di 30 anni che li vedi subito che hanno un'altra marcia non sono necessariamente i nuovi Ezio Mauro capito cioè sono semplicemente delle persone che stanno dare un servizio e già in quel momento tu respiri un'aria e dici vabbè quando questi poi si siederanno sulla scrivania giusta diciamo che cambieranno il sistema dall'interno io ho molta fiducia in questo anche se se questa formula di cambiare il sistema dall'interno è la morte civile secondo me se metto i panni diciamo dell'idealista no però insomma cerchiamo anche di essere realisti questa mi sembra una prima prospettiva seria la prospettiva generazionale la chiamo così poi mi dicevi quando se ci possono essere degli imprenditori underdog no cioè che partono proprio con una con una proposta diversa allora posso dire l'imprenditore underdog all'estero esiste cioè all'estero ci sono persone che sono riuscite a fare soldi inventandosi che so boxy no vi ricordate che cambiava completamente il sistema delle raccomandation per gli schermi grandi no il primo sistema per portare una tv diversa sugli schermi grandi peccato che l'obiettivo di tutti questi imprenditori underdog è fare la exit e quindi farsi comprare da samsung come è successo al signor boxy o farsi comprare da dal rcs come è successo a noi con i reporter farsi comprare ci sono tante storie cioè alla fine è il vecchio che compra il nuovo fico e lo ingloba e lo fa gocita e lo lo rende inoffensivo per certi versi ecco se smettessimo di ragionare per una volta da start up perché cercano la exit ci sono i famosi start up per seriali qui in italia che sono famosi perché hanno fatto dieci exit miliardari e una dietro l'altra ecco allora questi per me non sono degli degli editori innovativi sono dei grandi diciamo virtuosi del marketing multilivello e smettiamo di idolatrarli come se fossero dei veri innovatori perché non innovano nulla a parte proprio conti in banca e aggiungo da piccolissimo imprenditore che non cerca la exit ma il una sostenibilità personale e del nostro progetto è altrettanto difficile trovare i cosiddetti business angels perché ahimè anche loro cercano la exit non solo il business angels ha bisogno di idee non innovative ha paura il business angels ha il terrore di idee veramente innovative twitter a un certo punto lanciò periscope cioè la prima vera tecnologia di trasmissione live video sincronizzata con l'interazione social no l'aveva in realtà comprata da mercat no mercat fece la prima exit per periscope però periscope c'aveva a differenza di mercat un grafo sociale gigantesco quindi twitter poteva diventare il 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 deus ex machina di tutta questa roba che invece poi è diventata facebook instagram facebook live eccetera perché twitter non è riuscito a come dire a vincere quella quella partita che poteva garantire a twitter una sopravvivenza perché twitter ancora dipendeva dai venture capitalist e venture capitalist quando andò twitter a dirgli apriamo le api così terze parti potranno fare delle applicazioni fantastiche per l'informazione sfruttando questa tecnologia loro dicono no come aprire le api abbiamo una roba proprietaria proteggiamola se visto come l'hanno protetta tempo due mesi tempo due mesi e facebook live che ha un grafo sociale dieci volte più grande di twitter l'ha copiata perché non era rocket science poi questa tecnologia e adesso è tutto dentro l'unico mondo monopolista che lo può sostenere cioè facebook e twitter sta ancora lì a cercare l'exit della vita e però non ti lascio sfuggire alla seconda parte della domanda che è che facciamo dobbiamo aspettare lo tsunami così poi ricostruiscono sulle macerie oppure vedi all'orizzonte qualcuno che dice no ragazzi dai cambiamo prima che la differenza tra me e te che io sono in un'età in cui posso veramente mettermi sulla poltrona e guardare lo tsunami mangiando pop corn mentre tu sei uno che rischia improprio e vorresti essere tu forse lo tsunami no verrà uno tsunami positivo una cosa importante secondo me ne abbiamo anche parlato è cominciare a non ragionare ciascuno per conto proprio e mettersi anche insieme cioè in Italia ci sono tante piccole realtà no la tua cioè che so valigia blu insomma io nel libro cito chi prova a rompere la cornice no un framing però andiamo a cerchiamo di andare anche un po insieme perché da soli capisco che ci innamoriamo ciascuno della propria creatura però da soli tantissima strada non ne possiamo fare perché di là di là ci sono non solo tanti soldi ma anche come dire nell'intreccio tra politica affari economia e una certa evoluzione in narrazione della società ci sono tante di quelle di quei legami che non si può pensare veramente con la fionda di di golia di andarli a spezzare no o era davide non mi guardo quale dei due il gigante davide era il fiondarolo sì l'altro giorno ho visto che per esempio su produzione dal basso che un bellissimo una bellissima piattaforma di crowdfunding c'è un progetto che parte dalla sardegna che dichiara di ispirarsi direttamente al ai concetti dello slow journalism e ho pensato mi pare che sia su produzione dal basso non vorrei sbagliare comunque se lo cercate usando facebook come autore di ricerca lo trovate perché basta scrivere se lo giorno di sardegna riesce e ho pensato da un lato guarda che bello queste idee stanno stanno proliferando no cioè il mio sogno non è tanto di comportarmi come uno tsunami ma è più di comportarmi come come gli anticorpi no che tra l'altro è molto a tema adesso cioè comincia ad inoculare quelli che io sento un momento Bertinotti parliamo bravo sì quelli che abbiamo sempre chiamato i contenuti anticorpo per cercare di fare in modo che si sviluppi un'alternativa quasi in maniera naturale no se vuoi dall'altra parte tutte le volte che vedo l'ennesimo progetto piccolo che prova a far da sé da un lato dico beh entusiasmo ed è giusto perché anch'io ho provato a far da me ma sono molto d'accordo con te un'altra volta quando dici toccherebbe trovare dei modi per far assieme perché perché è difficilissimo far da soli difficilissimo e senza temere che qualcuno mangi sempre qualcun altro perché questa visione predatoria in un business che ha l'ambizione diciamo di avere una responsabilità una missione pubblica sociale secondo me allora che veramente non mi divertirei neanche a fare una cosa del genere con fini predatorie esattamente Antonio e abbiamo sforato l'ora io ho visto che Silvia ha scritto il vecchio che compra forse se Silvia stavi commentando semplicemente delle frasi che sono state dette da Antonio e non ci sono altre domande quindi io vorrei intanto ringraziarti perché bellissima chiacchierata per quello che mi riguarda avremo potuto continuare un'altra ora e mezza o anche di più spero che sia possibile presto fare una presentazione del tuo libro dal vivo e sarei molto felice di esserci e vorrei ricordare visto che mi pare giusto anche tornare a un minimo di promozione che siamo qui questa sera per presentare il libro di Antonio Pavolini che si intitola Unframing che adesso dovreste vedere sui vostri schermi se sta funzionando tutto come dovrebbe Unframing come difendersi da chi può stabilire cosa è rilevante per noi con prefazione di Giovanni Bocciartieri che prima o poi proverò ad invitare da queste parti e che proprio in questo momento sta facendo un'altra presentazione con Carosello His Book insieme a Mafia dei Badges che tra l'altro Scoop tra un paio di settimane sarà qui a fare la stessa cosa che hai fatto tu Antonio mentre se non sbaglio tu sarai da Carosello His Book giusto? Vogliamo dare qualche appuntamento per il futuro? Io sarò da Carosello His Book il 10 dicembre alle 21.30 questo è l'ultimo orario che mi hanno dato che va benissimo una specie di prime time magari mia moglie non sarà d'accordo perché quella è l'ora in cui guardiamo il film però dovrà sopportare e poi ce ne saranno altri online ma anche io davvero non vedo l'ora di farle in presenza se non altro per tutta la parte etilica che segue che è il vero motivo per cui ho scritto il libro tutti gli sbocce che seguono alle presentazioni io allora saluto tutti quanti grazie a tutte e a tutti per avere partecipato a questa presentazione noi abbiamo un prossimo appuntamento con gli Slow News Days esattamente tra una settimana un po' prima di quando ci siamo collegati oggi alle ore 17 con Giulia Blasi presentiamo il suo libro Rivoluzione Z che è un libro che parla di femminismo e non ho ancora iniziato a leggerlo lo comincio lo comincio domani e ve lo anticipo così se volete esserci Antonio se anche tu vuoi fare un salto a salutarci siamo ben contenti di averti con noi vi ricordo ancora Antonio Pavolini un framing come difendersi da chi può stabilire cose rilevante per noi grazie mille buona serata a tutti grazie a tutti e alla prossima alla prossima ciao ciao ok siamo offline